Le ragazze sono state un'altra volta bravissime perché onestamente eravamo quasi a fine partita. Vedevo che le ragazze stavano bene, ci credevano, però sicuramente non era facile rimontare due gol. Devo dire veramente che sono ragazze eccezionali che anche in allenamento danno sempre il massimo e sono orgoglioso di allenarle. Speriamo che non sia nulla di grave, adesso vedremo poi martedì, faranno l'ecografia e vediamo che cos'è. Spero che non sia nulla di grave perché oltre ad essere delle ottime giocatrici sono importanti nel nostro gruppo. Sono state molto ordinate perché abbiamo cambiato modulo, modulo che non abbiamo mai provato. D'altronde con i cambi che avevo a disposizione ho pensato di giocare in quel modo. è con il 4-4-1-1. Devo dire che le ragazze hanno interpretato benissimo e Luana ha fatto due gol cappolavoro, ma sono state tutte brave.